Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove tra Pistoia e Prato Est, in direzione Firenze, ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto al km 14.800. Spostandoci in FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna, si segnalano 3 km di coda in direzione Firenze e rallentamenti verso Livorno. Code in uscita a Scandicci, provenendo da Firenze. Oggi sarà in atto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, servizio di tramvia a Firenze non garantito dalle 10 alle 14. Per quanto riguarda gli autobus, l'adesione sarà in orari differenti. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!